Renault Grand Scenic in allestimento Energy Zen, con motorizzazione 1.5 diesel da 110 CV del 2017 e con 108.000 km. E partiamo subito dagli esterni dove non abbiamo nessun danno da segnalare. Vernice metallizzata black, gruppi ottici originali a LED, sensori di parcheggio anteriori, fari fendinebbia, cerchi in lega da 20 pollici, frecce integrate negli specchietti, apertura keyless, kit cromo superiore e barre porta tutto. Spostandoci sul posteriore troviamo sensori di parcheggio posteriori e un bagagliaio molto ampio con la possibilità di aggiungere ulteriori due posti. E adesso spostiamoci negli interni che sono davvero in ottime condizioni. Volante in pelle a tre razze con nessun danno da segnalare, con comandi al volante, richiamo vocale, cockpit interamente digitale, cruise control e guardate che bella la plancia centrale. Da qui possiamo gestire il climatizzatore touch con varie funzioni come fast, auto e soft. Nel display abbiamo il sistema di navigazione e veicolo, assistente di guida con frenata assistita e lane assist e assistenza al parcheggio. Infine troviamo cambio manuale a sei rapporti. Vi ricordo che potete venire a vedere e provare l'auto su strada. Inoltre per avere maggiori informazioni riguardo il prezzo e gli accessori, cliccate sui link in descrizione.